vi faccio divertire veramente guardate questo gambero chi ha visto mai un gambero vivo se c'è qualcuno che ha visto mai un gambero vivo parti un po' spettacoloso spettacoloso veramente freschezza assoluta guardate gli occhi un gambero spettacoloso ecco qua lo trovate un merruzzo che ancora si muove domani tutto questo pescato verrà venduto in pescheria di Catania bisogna soltanto contattare il numero scritto che avete sui nostri video guardate il numero ci sono ma vuoi più sul mi sono diciamo ma vuoi più sul diciamo ma ci stai alasca perchè si riconosce Lorenzo mi saluti Nasino mi fa troppa simpatia Nasino 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 Salute a Maria Ci fai troppa simpatia Buongiorno Vero nei tuoi video perciò ci fai troppa simpatia Non c'è di chi è Maria A lui è un tipo scherzoso che scherza sempre almeno In basso in età che c'è Anzi non c'è un altro Sardivelli Vi facciamo vedere le seppie E' un po' di pesce E' un po' di pesce E' un po' di pesce Le seppie ci sono sempre per tutti Guardate Molto rispetto a Maria Lorenzo Molte ore di lavoro Complimenti Grazie Daniele Grazie 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 Grazie